Ciao a tutti, benvenuti all'ABC del Football. Oggi parliamo della draft e parliamo dell'AFC Nord, quindi analizziamo le scelte alla draft di quattro squadre, ossia i Bengals, i Brown, gli Steelers e i Ravens. Quindi abbiamo Cincinnati, Cleveland, Baltimore e Pittsburgh. Bene, direi di partire subito, così entriamo subito nel vivo. Ho pensato di metterli in ordine, nell'ordine in cui avevano le pick al primo round della draft. Quindi vedremo i Bengals, poi i Brown, poi i Ravens e poi gli Steelers, per ultimi, perché hanno dato via la loro prima pick, quindi teoricamente non c'erano al primo round e quindi vanno per ultimi. Partiamo con i Bengals. I Bengals, come sappiamo tutti, hanno iniziato con Joe Burrow, che è il quarterback, il nuovo volto dei Bengals. Ne è stato parlato in lungo e in largo. È un tuo quarterback che ha sia il cervello per dirigere la squadra da un punto di vista di leadership e di tattica, ma ha anche un istinto pratico che lo porta a performare bene sul campo. Infatti, Joe Burrow, nella sua esperienza all'LSU, è stato di risultato come primo nelle classifiche, sia come capacità di performare sotto pressione, sia come capacità di performare fuori dal pocket. Ricordiamo che fuori dal pocket vuol dire fuori da quella area di copertura data dalla offensive line dopo lo snap della palla. Quindi un'area in cui il quarterback molto spesso si fa male, in cui deve correre, deve correre lontano da tutti i difensori che ce l'hanno proprio lì a portata di mano. Quindi, già uscire dalla pocket vuol dire essere sotto pressione. Poi, quando esci, hai giusto quel secondo, due secondi per riuscire a tirare la palla e fare un buon tiro non è per niente scontato. Quindi, di certo, il fatto che lui riesca a performare fuori significa molto della sua capacità di reagire a sangue freddo, che ovviamente è molto, molto importante in un quarterback. Va detto, comunque, che nonostante lui sia indubbiamente un quarterback talentuoso, molto va dato anche alla squadra dell'LSU, che di sicuro ha un coach fuori dall'ordinario, ma anche come talenti è in grado di reclutare bene. Non ci dimentichiamo che cinque talenti dell'LSU sono stati presi soltanto al primo round di questa draft. Quindi, diciamo che è più facile mostrare il proprio talento quando la squadra ne vale la pena, quando la squadra ti aiuta. Andiamo avanti. La prima scelta del secondo round, sempre di Bengals, è andata a T. Higgins, Wide Receiver. È stata una scelta molto costruita intorno a Joe Boro. Noi sappiamo che i Bengals non hanno fatto molto bene, non hanno performato l'anno scorso, e quindi vogliono ripartire da capo quest'anno. E T. Higgins hanno già visto che lavora bene con Boro, perché nel pre-draft si sono allenati insieme in California, e c'è stata subito una sinergia vincente, diciamola così. C'è una domanda da chiedersi, col fatto che abbiano preso T. Higgins, sul fatto che avevano già un buon Wide Receiver, che era Green, AJ Green, che però ha 32 anni e ormai sta arrivando alla fine della sua carriera. Quindi ci si chiede se sarà riconfermato alla fine del suo mandato attuale. Comunque T. Higgins è stata decisamente una fortuna averlo, perché in una draft normale non sarebbe arrivato al secondo giorno, era una scelta da primo giorno. Infatti ha il record di touchdown alla Clemson con 27 touchdown, me lo sono scritto, con 27 touchdown a pari merito con qualcun altro. 27 touchdown non è poco, considerando che siamo a livelli di college, considerando che non è stata neanche la prima scelta, quindi qui non stiamo parlando di CD Lamb, qui stiamo parlando della prima scelta di un secondo giorno. E comunque è un curriculum da prima scelta. Ovviamente non sei la tua prima scelta, Giubbolo. Comunque, abbiamo sempre al secondo giorno, è stato preso Logan Wilson, linebacker, che è anche lui una scelta già abbastanza completa, che comunque ovviamente può crescere molto. Infatti affiancato a Bynes, che è un veterano che i Bengals hanno appena preso in free agency, affiancati di sicuro Wilson potrà crescere molto, partendo già con una base solida insieme ai Bengals. Ha una buona taglia, ha un buon istinto, ha esperienza perché ha giocato molto al college e si può costruire molto sulla sua personalità, sulla sua persona, sulla sua capacità da giocatore, nonostante lo vedremo sicuramente molto in questa stagione che arriverà tra qualche mese. Infine, l'ultima pick del primo del secondo giorno, credo sia, è Akeem Davis-Geiter, un altro linebacker. I Bengals, e non soltanto i Bengals, si sono buttati molto sui linebacker in questa stagione perché i Bengals stanno ricostruendo, quindi si sono buttati in generale per coprire tutte le posizioni che abbiamo bisogno. Questo comprende sempre l'offensive line, tutte le volte che si deve ripartire si riparte sempre dall'offensive line, ma anche dai linebacker, perché sono molto responsabili sia per coprire, sia per placcare. Quindi abbiamo linebacker che ha un doppio ruolo perché può essere usato anche come safety. Questi giocatori che sono così eclettici sono sempre molto utili perché ti permettono di mettere in campo delle strategie che dei giocatori, ovviamente che possono fare soltanto una cosa per quanto faccia bene, non ti permettono di fare. Comunque, il motivo secondo me per cui è sceso così in basso è perché ha subito un leggero infortunio. L'anno scorso, che non è una cosa strana se vediamo le scelte dei Bengals quest'anno perché nelle ultime scelte, quindi principalmente al terzo giorno, si sono buttati proprio sui giocatori che hanno talento ma che sono scesi così in basso per via di infortuni più o meno importanti per i quali le altre squadre evidentemente non si sentivano pronte a dire prendo questo giocatore non sapendo quanto si potrà riprendere. Per alcuni di questi infortuni si saprà soltanto in futuro quanto bene si sono ripresi. Per esempio, un esempio così a caso, Tua che è stato preso dai Dolphins, si vede che adesso si muove bene tutto però i risultati di quanto bene è guarito il corpo si avranno soltanto tra un anno. Quindi io capisco, per Tua il rischio lo prendi. Per una quinta scelta magari dici no, grazie, preferisco prendere qualcun altro che sono sicura che posso far crescere e mettere in campo in futuro. Andando avanti, abbiamo Khalid Karim, un defensive end. A questo punto i Bengals hanno deciso di buttarsi molto sull'istinto e c'è una qualità in particolare che i Bengals, ma come tantissime altre squadre, come tutte le squadre cercano molto, ed è la capacità di leadership, la capacità di usare il cervello e di guidare i compagni in campo. Molte delle loro scelte in questa draft sono giocatori che in passato erano capitani della propria squadra. Magari non in un'università grandissima, però lo stesso hanno dimostrato capacità di leadership che è sempre molto importante. Quindi Karim è un defensive end, si muove ai lati ed è in grado di portare pressione alla offensive line. Ovviamente è un giocatore che deve crescere, però è sempre un segno positivo avere un giocatore di questo talento che cresce ai lati, perché tu sai che se tu lo cresci bene lo puoi mettere in campo e fa quello che tu gli hai insegnato. Certo, magari è ancora un po' a crudo, però si può costruire molto con questo tipo di giocatori. Anche qui il problema principale per cui non è stato preso è che ha appena subito a gennaio un'operazione e quindi ritornando da un'operazione non sei performante come lo saresti se fossi sano e poi devi aspettare che l'operazione, che la chirurgia guarisca e devi fare la riabilitazione, quindi ci vuole del tempo e quindi anche qui sono altri rischi, altri tempi che le squadre devono essere pronti a sobbarcarci. Ovviamente qui stiamo parlando di una quinta pick, il tempo c'è. Poi, Hakim Adenigi, offensive tackle. Scusate se sto sbagliando qualche nome, però credo che sia Adenigi. Comunque, è una offensive tackle che però ha dato la disponibilità a essere cambiata da tackle a guardia, che è molto positivo perché i Bengals hanno bisogno di una guardia e quindi sarà spostato, io direi, a guardia destra. È positivo perché è un giocatore con esperienza, ha fatto tante, ha fatto tanti, ha giocato in tante partite, ha imparato come muoversi, ha imparato come bloccare. Magari può diventare un pochino più veloce dei movimenti, però c'è del talento. Infine hanno preso Marcus Bailey, un altro linebacker. La classe dei linebacker era una classe... L'anno... Il fatto che i Bengals abbiano preso tutti questi linebacker è soltanto perché stanno ricostruendo la squadra e di linebacker non avevano praticamente niente, avevano proprio bisogno di iniziare a costruire tutta una nuova classe di linebacker per la squadra. Infatti di sette scelte, tre linebacker è tanto. Però era un grande bisogno. Quindi Bailey ha tantissimo potenziale, è veloce, ha l'istinto del campo, ha l'occhio, però si è fatto male alla stagione scorsa, si è fatto male al ginocchio, si è stirato il crociato, credo, e è stato fuori tutta la stagione scorsa. E ovviamente è un stirarsi il crociato, farsi male al ginocchio in qualunque modo è sempre una cosa negativa perché ci vuole tanto tempo per riprendersi e il ginocchio è così fondamentale giocando a football che si capisce perché Bailey si è sceso così in basso fino al settimo round. Questa è in generale i Bengals. Diciamo che i Bengals avevano ovviamente il vantaggio di aver fatto una stagione da schifo l'anno scorso e quindi di poter prendere all'inizio di ogni round quello che volevano. Hanno iniziato prendendo le cose di cui avevano assoluto bisogno urgente, quindi hanno preso il quarterback, i wide receiver e un linebacker e poi ci sono basati più che altro sui talenti che c'erano sul campo. Hanno visto a questo ci serve ed è anche buono, allora lo prendiamo. Hanno potuto fare tutte queste considerazioni perché le posizioni più urgenti le hanno potute coprire subito con delle prime scelte perché hanno ottenuto nelle prime tre posizioni delle tre scelte che di sicuro valgono molto nonostante non siano state fatte tutte al primo round. Andiamo avanti. Andiamo ai Browns, la mia squadra, e partiamo da Jedrick Quills. Jedrick Quills anche qui non c'è molto da dire, è secondo me la più completa offensive tackle che c'era quest'anno. La parte che secondo me lo distingue così tanto dagli altri è il fatto che la sua tecnica fosse così avanzata. È una tecnica che neanche si vede da università, è una tecnica già da NFL, lo potresti già mettere sul campo. Magari non è la persona più atletica che c'era tra le offensive tackle, direi che in generale Becton fosse il più atletico, il più forte, però Jedrick Quills è un gioco pulito, veloce, intelligente, che sicuramente è qualcosa sul quale i Browns possono costruire molto. Inoltre ha lavorato con Tua, che è un quarterback che si muove molto e che è mancino. E questi tipi di quarterback sono molto difficili, molto più difficili rispetto ai quarterback che rimangono dentro la pocket e che tirano con il braccio destro come Tom Brady. Sono molto più difficili da proteggere, perché se si muovono, tu devi stare attento a dove si muovono per far evitare che i difensori lo vadano a placcare. È a sinistro, quindi il suo lato oscuro, la sua blind side è dal lato opposto, ossia a destra, dove c'era Jedrick Quills, che infatti credo che sarà spostato sulla sinistra ai Browns, perché ovviamente giocherà subito. Poi nel secondo round abbiamo preso Grand Elpit, una fortuna che ci sia arrivato fino al posto 44, infatti lo si vedeva scendere e si muovono si vedeva scontato, sì vabbè lo prenderanno loro, lo prenderanno loro, poi è arrivato ai Browns e ha detto lo prendiamo noi. Quello che è importante da segnarsi di Grand Elpit è che ha il potenziale per essere una delle migliori safety nell'NFL, però questo soltanto in base a che tipo di giocatore lui vuole essere, nel senso che noi abbiamo visto due diversi Grand Elpit all'università, uno nel 2018 e uno nel 2019. Entrambi avevano talento, entrambi giocavano bene, ma a due livelli completamente diversi. Nel 2018 Grand Elpit era esplosivo, veloce, agile, sul pezzo, era lì, performava tantissimo e molto bene, aveva la tecnica, e quindi ci sarebbe da pensare che nel 2019 poteva soltanto migliorare. Non è stato così, è rimasto comunque sempre un giocatore molto intelligente, metteva il cervello in quello che faceva, però la sua abilità di... però non era sempre... però non aveva sempre la testa nel gioco, diciamo così, non sembrava sempre concentrato, e ovviamente quanto può crescere i Browns come carriera dipende molto rispetto a che tipo di gioco lui vuole mettere in campo. Comunque è un giocatore versatile e indipendentemente sarà utile. Ovviamente tutti vorrebbero un giocatore che è sempre concentrato sul gioco e in grado di mettere nel gioco tutto quello che ha, rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso. Andando avanti, terza scelta, Jordan Elliott, un defensive tackle. È un giocatore indubbiamente esplosivo, un giocatore con istinto, il suo problema è che non è un giocatore molto atletico, o meglio, nell'essere atletico non è regolare, già non è molto forte e non è particolarmente veloce. Poi nell'usare comunque il suo corpo non è regolare. Questo forse perché gli manca la tecnica e deve crescere e di sicuro non è un giocatore che puoi mettere in campo il primo giorno, però è un giocatore che puoi affiancare a un veterano come Richardson e vederlo crescere nel tempo e sperare un giorno metterlo in campo. Non è un talento da Hall of Fame, non è il talento del secolo, però può essere un giocatore di fiducia che metti sul campo e ti fa quello di cui hai bisogno. Poi abbiamo Jordan Phillips, un giocatore molto atletico, ma ancora un giocatore che deve crescere. Comunque, come davvero molto atletico, infatti ricorda un po' Mac Wilson e a questo punto della draft ha senso mettere in campo un giocatore che non ha la tecnica ma ha la capacità del corpo di fare quello di cui avrai bisogno come squadra. Infatti, se prendiamo giocatori come Lamar Jackson, come Joe Borro contro i quali dovremo giocare perché sono la nostra divisione, allora avremo bisogno di un giocatore che una volta acquisita la tecnica saprà come muoversi contro giocatori così dinamici come questi quarterback. Una cosa sulla quale si può dire per Phillips è che non credo che potrà essere messo in campo a ogni gioco, per ogni strategia, perché per quanto sia buono a giocare quando si tratta di fermare un running back non è abbastanza buono quando si tratta di un passaggio, quando il quarterback tira la palla perché semplicemente non ha l'istinto e l'istinto lo puoi migliorare però ci deve essere quel qualcosa che hai già quando vai alla draft, quel qualcosa di naturale che ti fa dire so dove andare. Poi abbiamo Harrison Bryant che è una tight end. È un giocatore che secondo me è più pronto per essere messo nel campo di quello che la gente dice specialmente dopo che farà il training camp con tutti gli altri Browns. Adesso non abbiamo bisogno di una tight end però non ci dimentichiamo che Njoku adesso è al suo ultimo anno. ha finito i quattro anni sta facendo il quinto quindi alla fine dell'anno non si sa se lo traranno. Onestamente a me piace Njoku secondo me fa delle ottime prese però tantissima gente tantissimi fan dei Browns dicono che lo dovremmo dare via quindi vedremo cosa si farà però sicuramente secondo me Bryant può crescere come tight end e prendere il posto di Njoku. Non sarà la tight end che passa nella storia però anche qui si tratta di un giocatore che ha la taglia giusta e le mani agili e che quindi può performare sul campo insieme alla squadra. Per adesso sarà una buona spalla insieme a Austin Hooper che è appena stato preso e a Njoku mentre cresce però se guardiamo al futuro lui e Njoku fanno più o meno lo stesso tipo di portano lo stesso tipo di qualità sul campo mentre Austin Hooper porta delle qualità diverse il che ci porta a credere che dovendo tenerne solo due col fatto anche che una matricola che hanno appena preso rimarra lì per quattro anni che costa comunque molto meno rispetto a un giocatore che ha già esperienza la scelta mi sembra abbastanza obbligata dovendo farla. infine l'ultimo giocatore che andiamo a vedere è Donovan People's Jones che è stato preso al sesto round e che è assolutamente assurdo che sia sceso così in basso io non me lo so davvero spiegare onestamente però sarà una buona aggiunta insieme a Callaway e Higgins e ovviamente dovrà lavorare dovrà migliorarsi anche perché secondo me non ha avuto la capacità di migliorare tanto quanto avrebbe potuto mentre era in Michigan comunque è un giocatore atletico è veloce e ha un buon lo chiamano football IQ vuol dire che ha l'intelligenza pratica sul campo per adesso sarà un buon terzo wide receiver e poi vedremo se nei prossimi anni comunque non si tratta secondo me di quest'anno lo vedremo magari un qualcosa l'anno prossimo e vedremo come si può comportare come terzo wide receiver andiamo avanti andiamo ai Ravens che secondo me hanno fatto un'ottima draft Arba ho sedato da fare un po' è stata sicuramente la fortuna che come è capitato anche a noi un po' è stato il fatto che le scelte erano quelle giuste sono partiti con Patrick Queen linebacker un giocatore pronto a essere messo sul campo è veloce è intelligente è versatile ha tanti talenti può fare diverse cose sul campo magari non è tanto talentuoso come lo era Mosley che hanno perso come giocatore libero l'anno scorso due anni fa comunque di sicuro aggiungerà qualcosa di cui Ravens hanno proprio bisogno perché avevano bisogno di un interior linebacker e nonostante lui non abbia grande esperienza per il fatto che ha giocato poco al college ha un talento tale che Arba evidentemente crede di potergli insegnare quel poco di tecnica necessaria entro l'inizio della stagione abbiamo J.K. Dobbins running back sono sempre sempre più sorpresa che J.K. Dobbins sia sceso così in basso fino ad arrivare ai Ravens perché è un running back di tutto rispetto è uno dei migliori running back di quest'anno i Ravens hanno bisogno i Ravens sono una squadra che guardando semplicemente le statistiche non ha fatto particolarmente bene l'anno scorso quando la gente guardava la partita diceva mamma mia questa squadra andrà al Super Bowl perché oggettivamente sembravano molto bravi guardando di giocare ma guardando le statistiche si vede che non hanno non hanno corso molto non hanno tirato molto in realtà guardando bene semplicemente la Mark Jackson ha fatto un gioco così così era un giocatore così difficile a prevedere così bravo sgusciava correva era veloce era intelligente e quindi la difesa le difese avversarie non sapevano come fermarlo non sapevano come comportarsi ed è per quello che la squadra è andata molto bene niente da criticare se questo funziona buon buon per i Ravens però ovviamente Harbao adesso nella draft ha pensato di migliorare tutti quegli aspetti che non hanno funzionato l'anno scorso tra cui i running back i Ravens non sono stati in grado di far correre i giocatori con la palla l'anno scorso J.K. Dobbins di sicuro potrà cambiare le cose ha stabilito un record all'Ohio State di più rushing yards che sono erano 2003 rushing yards che è una statistica impressionante e quindi possa portare una ventata d'aria nuova all'interno dei Ravens specialmente adesso che Ingram che era il running back si è fatto male che comunque ha 30 anni si è fatto male alla caviglia e quindi ci servirà un talento giovane sul campo poi hanno preso Justin Madubwick una defensive tackle di nuovo mi scuso per la mia per la mia pronuncia dei nomi comunque era una una buona defensive defensive tackle di sicuro non la possiamo paragonare a Brown che è andato che è andato al primo round o anche a Kinlaw però di sicuro dopo quei due il suo nome di sicuro salterà 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 fuori non è un giocatore pronto per essere sul campo come ho già detto non è Brown però è un giocatore che ha che ha il talento all'istinto è veloce si muove bene sul campo all'equilibrio è coordinato che sono tutti sono tutti attributi necessari per giocare bene sulla defensive line e poi i Ravens hanno bisogno di effettuare più pressione al centro questo perché l'anno scorso hanno sono stati in grado di effettuare soltanto quattro sac che è un dato abbastanza deludente per Arbao e che quindi ha pensato bene di prendere Madhubuic andiamo avanti un altro bisogno erano i wide receiver anche lì Lamar Jackson non ha avuto molto aiuto l'anno scorso e hanno preso quindi Kevin Duvernay che è un giocatore molto veloce un giocatore dalle mani agili un giocatore veloce e che fa del suo meglio con passaggi corti e una volta che ha preso il passaggio corto è in grado di fare anche di avanzare molto con la palla è un giocatore la cui tecnica ha bisogno di essere la cui tecnica ha bisogno di essere perfezionata che ha bisogno di maturare e di studiare però il talento c'è e si è visto mi ricordo già di portare sul campo qualcosa di nuovo poi abbiamo Malik Harrison linebacker che è disposto anche a fare special teams che è una cosa che a Ravens è piaciuta tantissimo molti dei loro giocatori che hanno preso negli ultimi round sono giocatori che si sono andati disposti a fare più di un ruolo specialmente negli special teams e si vede che a Ravens piace la versatilità è un giocatore è un linebacker che è bravo a esercitare pressione meno bravo a coprire quindi buon placcaggio meno bravo meno buono come meno buono per coprire i wide receiver per esempio quindi abbiamo un giocatore che può essere messo in campo per adesso almeno soltanto per adesso dopo che ha maturato comunque soltanto in determinati in determinate strategie poi hanno preso poi Ravens hanno preso Tyre Phillips una offensive tackle ricordiamole l'offensive line bisogna sempre sempre migliorarla perché è troppo fondamentale è uno dei ruoli più fondamentali se non il più fondamentale dopo il quarterback comunque senza una buona offensive line il quarterback non può fare miracoli abbiano preso questa offensive tackle però non pensando di farla giocare come tackle ma pensando di farla giocare come guardia destra e lui si è detto disponibile nonostante abbia sempre giocato come guardia scusate come tackle l'idea però di spostarlo a guardia è stata è stata è nata ovviamente dalla necessità però è anche vero che il difetto di questo giocatore è il fatto che non sia molto mobile e quindi è facile per i giocatori di difesa correre intorno questo problema è limitato se lo spostano dall'esterno fino all'interno facendo passare da tackle a guardia poi abbiamo Ben Bredeson una offensive guard del Michigan io ci tengo a dire questo il coach del Michigan e il coach dei Ravens sono fratelli quindi se John Harbaugh prende un giocatore un giocatore dal Michigan vuol dire che questo giocatore vale di più di dove è arrivato Harbaugh ha detto sulla sua draft che la sua priorità principale era ricostruire la offensive line interna ha preso la ha preso prima Phillips come offensive tackle con l'idea di farlo diventare guardia adesso prende una guardia va pensando di farlo diventare un centro tra l'altro il giocatore è disponibile ovviamente a fare anche da centro è un giocatore non è molto atletico però non è non è la cosa più importante nel centro il centro oltre a essere un giocatore fisico deve essere anche la mente portante della offensive line e lì Bredeson c'è è un buon cervello è un giocatore che reagisce bene a sangue freddo e poi ha un buon equilibrio e secondo me aiuta il suo aiuta la capacità fisica di respingere gli attacchi adesso è fondamentale era fondamentale per i Ravens trovare un center perché il center attuale si è fatto male è fuori per un infortunio al ginocchio quindi ne serviva un altro andiamo avanti abbiamo Broderick Washington Junior una defensive tackle è un giocatore che ha giocato che ha giocato in molte partite mentre era al college quindi ha maturato molta esperienza e ha un buon istinto tuttavia la taglia è piccola però quella lì secondo me però quella lì si può sempre migliorare può aumentare di peso fare più palestra per quanto non può diventare più alto l'idea non è quello di metterlo in campo in tutte le partite anche dopo che è cresciuto e si è migliorato ma è l'idea di affiancarlo a Williams andiamo avanti e arriviamo alle due grandi conquiste dei Ravens tenendo conto dove le hanno prese e sono Prosh e Stone andiamo prima a James Prosh Wide Receiver abbiamo già parlato che avevano bisogno di che avevano bisogno di migliorarsi anche con i Wide Receiver cosa che avevano già fatto con Duvernay però con Prosh prendono anche un giocatore che è in grado di fare il Returner l'ha già fatto al College quindi un buon giocatore da mettere anche negli special teams è un giocatore non particolarmente veloce o particolarmente grosso però è un giocatore fluido con mani agili e forti quindi riesce a proteggere bene la palla quando viene quando viene placato e è un giocatore quindi di cui ci si può fidare inoltre hanno preso Gino Stone una safety che è decisamente un'ottima safety nel tra quelle rimaste ma in generale un giocatore molto sottovalutato e davvero una buona safety non avrebbe dovuto scegliere scendere così in basso la safety è una posizione di grande necessità per i Ravens infatti c'è a stupirsi che sia stata che abbiano preso un giocatore così in basso così all'ultimo all'ultima pick disponibile è un giocatore atletico non particolarmente veloce però il suo grande problema quello su cui deve migliorarsi è la sua precisione i suoi i suoi placaggi sono aggressivi però non sono precisi e questo li porta a essere meno efficaci gli Steelers hanno basato la loro strategia della draft non sul talento dei giocatori che gli avevano davanti ma su quello di cui la squadra aveva bisogno questo accade quando Davey ha la possibilità di prendere un giocatore alla prima al primo round la scelta è stata giustificata perché hanno preso hanno dato ai Dolphins il loro pick e hanno preso Fitzpatrick che è un un giocatore giovane e dinamico è un defensive end che copre un grande buco che gli Steelers avevano quindi avranno dato via una un primo una prima pick però per un giocatore che valesse quella prima pick quindi come come scelta ha molto senso andiamo alla prima scelta di questa draft abbiamo Chase Claypool Wide Receiver dalla Notre Dame il Wide Receiver era una posizione che bisognava coprire subito e così è fatto molte persone sono rimaste scettiche per il fatto che sia stato scelto lui quando era ancora disponibile J.K. Dobbins visto che avevano bisogno anche di un running back però forse gli Steelers hanno pensato che era più importante prendere un Wide Receiver che è un running back nel momento la cosa può avere senso poi hanno preso un running back decente che non è J.K. Dobbins però hanno preso Chase Claypool che è un buon Wide Receiver potrebbe avrebbe potuto essere in un'altra in un'altra draft una scelta da primo round è un giocatore che oltre a prendere la palla è anche bravo a bloccare e non ha paura di fare il lavoro sporco quindi è pronto a mettersi al lavoro senza contare che il fatto che sia così alto allora diciamo che lui non vuole essere chiamato un tight end lui è un Wide Receiver detto quello è un ottimo blocker ed è alto quindi secondo me rientrerebbe di più come tight end che Wide Receiver il fatto che lui sia così alto darà a Ben Rotlisberger e a insieme a Ebron due uomini alti da mettere nella end zone a cui passare la palla poi abbiamo Alex Highsmith linebacker dalla Charlotte anche qui è un giocatore che è disponibile a fare gli special teams come abbiamo visto un sacco dei candidati dei Ravens non era diciamo che forse non era il bisogno più grande però era quello più impellente contando anche che il che come che linebacker è una posizione costosa da coprire con la free agency quindi prendere alla draft una matricola è di sicuro meno costoso il problema di Highsmith è che ha fatto soltanto una stagione ha giocato soltanto la stagione scorsa che è stata un'ottima stagione però non si può sapere quanto sia regolare nell'essere così performante è comunque una stagione in cui ha fatto 15 sac e sarà e sarà un e sarà interessante vedere come verrà usato all'interno degli Steelers però gli Steelers hanno hanno diciamo hanno messo molta fiducia in questa in questa pic andando avanti abbiamo Anthony McFarland il nostro running back dal Maryland il primo di due giocatori presi dal Maryland era una grande necessità e a molte persone non è piaciuto questo running back perché nonostante sia un running back con uno stile diverso da quello di Connor è molto simile a quello di White e White non ha giocato molto l'anno scorso e quindi c'è da dire se davvero volevate questo genere di running back allora perché non avete usato White l'anno scorso avete usato quasi solo Connor se si vedono le statistiche è proprio palese hanno usato per la stragrande maggioranza Connor vedremo magari c'era qualcosa in White che non riusciva che non connetteva con con la squadra e quindi vogliono riprovare con McFarland si vedrà è un giocatore molto esplosivo e molto veloce è un giocatore basso ma non piccolo è un giocatore veloce risultato il quarto più veloce alla combine tra i running back è un giocatore molto esplosivo molto aggressivo il problema è che anzi diciamo il problema si è fatto male l'anno scorso si è fatto male alla caviglia però ha continuato a giocare lo stesso che tu dici problema perché si è fatto male però ha continuato a giocare che può dire che o ha peggiorato il suo problema oppure ha dimostrato una grande tenacia andiamo avanti con Kevin Thompson guardia sinistra è una guardia con grande esperienza ha giocato tantissime partite mentre era al college infatti credo che lo metteranno in campo molto molto presto è un giocatore con delle mani forti in grado di proteggere la palla però forse quello di di cui si potrebbe dire la cosa negativa che si potrebbe dire è che non sembra molto fluido mentre gioca non sembra molto non sembra quasi a suo agio che è una cosa stupida da dire perché ha giocato tutte queste partite ma magari è soltanto una mia impressione avanti abbiamo Antoine Brooks Safety dal Maryland è un giocatore che oltre a fare la safety si è dato disponibile a fare anche gli special teams è un grande uomo letteralmente grande per fare la safety però ha un gioco molto buono vicino alla line of scrimmage alla linea della palla un gioco esplosivo aggressivo però nonostante sia bravo nel placcaggio a volte non è molto concentrato e e non e non placca bene quindi non è molto regolare nel suo gioco infine abbiamo Carlos Davis che è un defensive tackle dal Nebraska è il classico ultimo giocatore preso nella draft è un giocatore che ha ancora un mare che ha che ha il talento ma ha un mare di star da fare è un giocatore preso soltanto per dirgli siediti guarda lavora impara che poi potranno usare indubbiamente io non dico che lo terranno lì per sempre però se pensassero di tenerlo lì per sempre non l'avrebbero preso però la tecnica ha bisogno di grande di grande lavoro in particolare l'uso delle mani per una defensive tackle devi imparare anche magari a pulire un po' di più il suo gioco gli stealers comunque in generale hanno a me sembra che non abbiano riempito tutti i vuoti che avevano entrando nella draft però per questo hanno si sono dati molto da fare alla fine della draft infatti credo che abbiano preso una cosa tipo 9-10 giocatori dopo tutti i giocatori che erano nella draft ma non erano stati presi e di questi 9-10 un 7 erano in difesa si sono dati proprio hanno dato proprio tutto una difesa in particolare rimanevano il inside linebacker hanno preso John Huston Lee Lewis e James Lockhart hanno preso tre inside linebacker quindi pensate infatti hanno preso soltanto un linebacker durante la draft che è confrontando le altre squadre si vede che poi hanno dovuto si vede il motivo per cui poi hanno dovuto andare a prenderne tre poi abbiamo bisogno di una safety nonostante avessero preso Brooks quindi hanno preso Trajan Bendy e James Pierre entrambi erano partiti come safety poi sono diventati cornerback quindi possono fare entrambe le cose però non mi sorprenderei se prendessero adesso ancora nella free agency una safety magari veterana che ha un po' di esperienza alle spalle infine c'è un buco che non è stato che non è stato riempito non è urgente però c'è a chiedersi il quarterback quale sarà il futuro degli Steelers come quarterback abbiamo adesso Ben Rotterisberger che è un ottimo quarterback e non c'è fretta di di rimpiazzarlo però c'è da chiedersi nel momento in cui lui deciderà di ritirarsi che cosa ne sarà degli Steelers io non credo che Mason Rudolph sarà il futuro è un backup quarterback e questo si è visto nell'ultima stagione non ha io credo il talento per essere un primo quarterback alcune persone hanno detto che si potrebbe pensare a prendere Andy Dalton insegnarli in questi anni Andy Dalton ha 32 anni ne fa 33 quest'anno il che lo renderebbe insomma già abbastanza avanti con gli anni nel momento in cui Ben Rotterisberger arriverebbe a arrivere arriverebbe a ritirarsi quindi io non lo vedo una cosa molto molto probabile se una squadra che prende Andy Dalton secondo me lo prende per mettere sul campo nel prossimo anno o nei prossimi due anni comunque non aspetta diversi anni perché poi gli diventa vecchio e se tu hai se tu vuoi un giocatore con tanta esperienza ti tieni Ben Rotterisberger lo convinci a non a non andare in pensione quindi è una cosa da cui di cui per la quale stare attenti nella draft del 2021 potrebbero prendere un buon quota per giovane spero non Trevor Lawrence perché se adesso abbiamo che contatto che sono nella draft con i Browns se abbiamo Joe Burrow e Lamar Jackson e poi viene un'altra squadra Trevor Lawrence io non lo posso sopportare non posso sopportare l'idea quindi speriamo che gli Steelers facciano in modo decente quest'anno così che non abbiano la prima scelta l'anno scorso che vada l'anno prossimo che vada qualcuno tipo i Redskins che non sono che non giocano mai con i Browns quindi quindi mi tolgo il pilo dalle spalle perché non credo che faremo così male da avere da prendere Trevor Lawrence l'anno prossimo sfortunatamente perché è un giocatore che a me piace molto quindi questi erano i miei pensieri sulla draft dell'AFC Nord il primo video dell'analisi delle divisioni che faccio fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere se non siete d'accordo con qualcuna delle mie opinioni fatemi sapere magari se pensate che il candidato non sarebbe perfetto per gli Steelers e ci vediamo con il prossimo video che non ho ancora deciso quale sarà un altro video dell'AFC e buonasera grazie a tutti